Il Comune di Asti investe 272.000 euro per potenziare gli asili nido, lo fa pensando anche ad assumere 15 persone e a prolungare l'orario. Interventi anche sui centri estivi e l'avvio di un progetto contro la dispersione scolastica grazie ai contributi della Regione. I posti negli asili nido di Asti saliranno a 280 e le famiglie in lista d'attesa scenderanno ad una ventina. Per le famiglie la notizia più importante sarà l'ampliamento dell'orario, in particolare nelle strutture dove è stato richiesto dalle famiglie. Nell'emergenza sanitaria le strutture comunali avevano fatto un grande sforzo per rispondere alle esigenze delle famiglie, nonostante le difficoltà erano rimasti aperti anche nei primi mesi della pandemia per continuare a garantire il servizio. Con l'aggiunta di personali si potrà garantire la continuità anche se un educatore dovesse risultare positivo. L'anno scorso le domande di iscrizione erano diminuite, oggi la situazione è opposta. Il Comune ha deciso di destinare gran parte dei contributi ottenuti dalla Regione anche ai centri estivi. Il denaro ricevuto sarà utilizzato per iniziativa a supporto delle famiglie, come riduzione delle rette o ampliamento degli orari. Parte di questi contributi saranno anche destinati al pagamento delle rette, dei centri per bambini segnalati dai servizi sociali o con disabilità. 39.000 euro infine saranno destinati ad un progetto di contrasto alla dispersione scolastica. Riguarderà in particolare alunni di medie e ultimi anni delle elementari.